vedo barbara con un patuoccolo nelle mani non so cosa deve fare sì ma perché abbiamo un ospite specialissimo e poi vedo una faccia con uno che cos'è un cavolfiore con una cosa un radicchio brava brava ciao barbara radicchio ziovito ziovito la vedevo con una palla in mano cosa fa il veggente non è la mia è un radicchio sì è radicchio perché oggi ho ospiti in che senso ospiti che lo so che non si possono appunto si possono avere le persone a casa però ziovito oggi ha degli ospiti perché non so se avete visto il video l'altro giorno che ho messo che erina è stata fermata sì è il controllore è venuto a casa perché dice che la patata era cigliata invece irina è possibile che ha cigliato la patata di irina allora lei gliel'ha fatto vedere lui gli ha tolto il verbale 543 che l'aveva fermato e gliene ha date 300 dice questo è un bonus e gliel'ha data ah cioè lei gliel'ha data al al poliziotto gliel'ha data sì 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 la c'è irina non si voglio dire il ciglio e praticamente allora l'ho invitato ha detto mo faccio un bel risotto con radicchio perché ci piace ho capito ho capito e la signora col patuoccolo a cosa serve io arrivo arrivo a cucinare voglio partecipare anche io alla festa col patuocolo a bolognese fai i tortellini fai i tortellini alla bolognese io sto facendo il broto perché devo fare il risotto quindi sto facendo il broto vegetale sì sì la coda di rospona insomma la zamba di coniglio la lingua di gatto che mi era avanzata e insomma una serie di cose perché diciamo noi siamo un po' nel mondo della magia siamo le maciare noi diciamo ho capito insomma volevo dire che comunque oltre al controllore invitata è invitata anche il fisioterapista perché perché irina stamattina l'ho trovata piegata a 45 gradi piegata forte proprio non si poteva muovere povera ragazza sì allora lui ha detto che c'è lui ha detto che me la drizza cosa no airina me la mette te la tira su la drizza c'è la raddrizza no ah ho capito ecco ecco e lei ha drizza lui e diciamo è tutto se me la porta almeno a 30 gradi che muoio a 45 prima figurate che quando l'ha trovato il fisioterapista che zio vito non c'era era uscito col cane dice che era a 90 ma guarda io l'ho lasciata a 45 l'ho trovata a 90 ma guarda un po' queste cose la medicina che ti fa ma zio vito a lei le piace a 45 a 90 o a 30 irina e come non ho capito che zio vito un po' sordo no devo dire le ho chiesto lei come gradisce irina a 45 a 90 o a 30 gradi irina ma lei allora da un grado in giù è sempre sempre bene diciamo che diciamo che la sponda la sponda di motocarri zio vito è precisa 45 è calibrata ah ok perché la è la posizione principale 45 c'è anche il freno perché la la sponda tutti i mantieni perché in caso è un ringulo che ce l'hai sicuro il ringulo allora praticamente allora ti vai a frenare e la cosa bella è quando stai sopra il motocarra a cascione allora lei può mettere la capa che la la tiene così le mani che gli ho fatto le manette che ne siamo un po' sadonasso noi e quando zio vito frena ringula 45 46 più o meno no tototon tototon all'ostica gli ha detto stregretta con garbo anche senza garbo quando diciamo arriva una cresommola di quella e non so se a bologna dite cresommola no non so no no noi diciamo cresommola non so noi io sono di rimini mi fra e de roma e quindi cazzo figa voglio dire no eh certo certo eh certo cioè senta eh zio vito ma lei quando fa tutte queste peripezie angolari lei cosa fa accende anche le candele eh smorza le candele le fa no 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 smorza no no erina che smorza cioè lei è è dedicata fa fa la candelora cioè lei come posso dire dica eh le stuta insomma le stuta le candele le spegne eh cioè smorza le candele smorza si 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 le ha detta si scusate scusate l'ingenuità della della soffanista bolognese ma stiamo parlando delle candele del motocarro le candele del candelabro per le cene le candele di zio vita quella è una candela sola che illumina la vita e illumina la vita si si è una candela specializzata insomma si è proprio è proprio quei ceri grossi quelle le cendre quelle che portano tipo il mattarello tipo il patuoco il mattarello che fa è un stuzzicadetto ma no che se ho vinto comunque diciamo ha fatto la grande guerra che è tutto in grande insomma per cui lo sa zio vito che io sono andata a cavallo per pasqua ecco le eh eh che fortuna un cavallo e mentre e mentre stavo passeggiando col mio cavallo ho fatto una telefonata a Beppe a Beppino per chiedere se il cavallo ha il permesso di uscire mi sono mi sono preoccupata per lei ho chiesto se anche lei col motocarro può andare in giro mi ha detto assolutamente di sì sì perché io ho l'autorizzazione pronto soccorso e arrivo è tutto a posto piuttosto mi meraviglia il cavallo diciamo è stato cioè povero cavallo sai come ha sudato diciamo con lei sopra il cavallo è importantissimo perché come ha detto Beppe un cavallo una cavalcata al giorno leva il medico e il coronavirus di torno no di torno sì 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 ma una curiosità era un frisone o era uno stallone diciamo come uno stallone ovviamente ma che domanda quando non è navigato come voi no no c'è assolutamente ah io navigo sempre tutti i giorni sì sì dei barconi tutto 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 dovete provare però zicchè il cavallo eh eh dovete provare andate nel bosco signora Barbara eh e e chiedete del lupo siete trementissimi va bene eh e ha fatto un applauso di mano che da qui è arrivata a metà ponto ha capito zio Vito no non sento bene ho detto ha fatto Nicola di Matera un applauso che è partito da da Matera è arrivata a metà ponto Elisa della dal Ticino della Svizzera ci augura buongiorno grazie per la compagnia siete trementi vabbè insomma oramai siamo diventati io volevo chiedere a Elisa della Svizzera sì 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 ma i cinesi svizzeri no ci saranno dei dei cinesi in Svizzera no eh come si chiama Ticinesi come come sono sono Ticinesi Ticinesi è certo Ticinesi è giusto è giusto saluto la Svizzera saluto tutti quelli di Rappersville e quelli del candone dei Grigioni dove con i miei due le altre due bestie che c'ho Tonino e Pepini siamo stati qualche anno fa a fare spettacolo come dicono qua a Svizzera a Svizzera a Svizzera a Svizzera a Svizzera senta zio Vito ma lei con l'inglese come va eh good in che senso good good very well I speak a little bit pochi lo sanno che ha vissuto un anno in America in the state in the state Wisconsin Chicago New York quando lei ha Chicago? quando ero giovane dopo le 14 diciamo che dipende da cosa mangi se è Pasqua, se è Natale non mi piace tutti i giorni ci sono quelli che sanno orari Zio Vito diciamo che come posso dire tutta una botta diciamo mi libero evacuate tutti evacuate evacuazioni a lei fa le grandi evacuazioni Zio Vito è un uomo pratico escono tutti dal palazzo anche se non dovrebbero e Zio Vito evacua loro evacuano in un modo o in un altro dite Zio Vito ma lei da questo momento quindi dalle 11 e 27 minuti fino a mezzogiorno cosa c'è da fare? dunque prima cosa devo il cane mi porta spasso perché il cane c'è l'autorizzazione a portarmi fuori perché Zio Vito è anziano ha 140 anni quindi diciamo poco a poco diciamo e nel frattempo Irina ha il fisioterapista che l'ha da attrezzare buono buono me la deve mettere in forma eretta e poi viene anche il controllore viene a pranzo perché dice che gli ha avanzato una 200 euro di bonus e vuole essere così gentile da darlo a Irina viene poco prima che io torno perché io li voglio lasciare soli non mi piacciono queste cose di soldi io non voglio entrare perché io ho piena fiducia di Irina su questo proprio lei ha 27 anni è innamoratissima di Zio Vito 130 da qua si vince tutto diciamo questo è proprio il bad amore questo è il bad amore sì 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 ogni tanto piglia pur due badascaffi però dipende un pochettino ecco da come si comporta è sempre la mia badamante non voglio dire ma noi dell'immaginario collettino diciamo che ci abbiamo noi italiani un po' questa cosa che la badamante avesse per forza rumena lei in effetti muove la bocca strana in che senso è rumenica proprio sta sempre a fare così ah rum rumena 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 ho capito perché è la mia dada anche lei rumena sempre anche lei è rumena hai visto però non mena perché tu c'hai la tatta c'hai stranieri è lei che mi ha insegnato a usare bene il mattarello no è lei volevo dire lesbica no 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 non glielo ho mai chiesto non entro in queste pratiche io sono un po' l'antico lo so lo so lo so no siccome c'è la badamante però mi ha insegnato usare il mattarello molto bene hai visto sono tutto uguale hanno una mano loro come mattano loro non mata nessuno manca il mattador niente sono solo loro che ammattano ammattano bene ha risposto Elisa la ticinese cioè quella ecco dice io sono ai confini con l'Italia qui si parla italiano complimenti a tutti in particolare a zio Vito grazie 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 ti cinese ti ringrazio e ti telefono un giorno di questo lo vediamo ti be' ti saluto va bene questo è il nostro inglese zio Vito naturalmente zio Vito naturalmente va bene beh un uacciwariwa si si un qui qua qua come dici tu diciamo che poi c'è da dire che zio Vito poi lui è stato anche alla casa di riposo si 20 anni fa zio Vito stava già alla casa di riposo oh capito solo che erano tutti ringoglioniti perché riposavano tutto quanto giorni e noti so che è la casa di riposo però che cazzo ma a meno a parlare con qualcuno a prendere una birretta a fare niente li vedevano la televisione che guardavano la televisione spedendo questo non è cosa per me e zio Vito ha evaso si ha evaso si ha evaso da notte ho evaso perché ancora non avevo il catet il cater diciamo che scaricavo io c'è il catet l'ho detto wireless che pisci qua e scarico a casa nel senso che lo porto quando vado fuori perché chiaramente devo solo che quando non c'è linea è un problema se non c'è indiret a quel punto mi pisci addosso perché chiaramente però è interessante il catetere wireless è veramente innovativo l'ho vendato io l'ho vendato zio Vito ha capito ho capito ho capito mi piace allora zio Vito ha fatto un contratto con una grande azienda io ho fatto il progetto ho venduto e adesso è wireless quindi io posso anche andare a Zurigo ecco mi collega pisci a casa diciamo che e con la zap con la zap il telefono praticamente faccio anche scaricare lo shakur ecco tutto pulito tutto pulito con la zap con la zap riesci a fare questo straordinario straordinario è innovativo il vero innovativo di oggi signori io resterei ore e ore con voi e soprattutto voi restate noi restiamo lei invece evacua sì credo che adesso è ora di evacuare devo fare un'evacuation un'evacuation ecco ecco va bene e allora zio Vito noi ci rivedremo e ci risentiremo la prossima settimana e con la sua evacuazione ci dirà un po' come è andata ha detto in pari e se Irina l'ha riadrizzato ma sarà un discorso di scusate il termine medico di merda perché se parliamo di evacuazione diciamo noi che possiamo fare una trasmissione non è c'è chi ha quelle cose medicina 33 va vabbè medicina 33 allora metto a riposo anche il mattarello zio Vito l'aspetterò la prossima settimana comunque beh arrivederci a vostri in casa vostra Greta con Garbo baci a tutti ciao ciao zio Vito